Benvenuta o benvenuto alla quarta lezione del corso Video Smart Pro, in cui ti parlerò di uno degli argomenti più difficili, la comunicazione, ovvero parlare alla videocamera, una di quelle cose più terribili che ci possano venire in mente. Ed effettivamente è molto difficile parlare ad un oggetto inanimato, perché non abbiamo nessun tipo di riscontro e poi insomma registrarci mentre parliamo, la nostra voce, risentirci, no? Tutta una serie di cose che generalmente mettono in crisi un po' tutti, me compreso, infatti questi video qua sono difficilissimi da realizzare per quanto mi riguarda. Ma cerchiamo di capire un po' come andare a ottimizzare la comunicazione in un video per cercare di trasmettere un messaggio nel modo più efficace possibile. La prima cosa importante da ricordare è che nel momento in cui stiamo facendo una ripresa a una persona che parla, se vogliamo rivolgerci direttamente a un pubblico e quindi coinvolgerlo più possibile, dobbiamo guardare dritti dentro l'obiettivo e quindi non staccare mai lo sguardo dell'obiettivo, perché se io stessi guardando per esempio di lato, do la sensazione che io stia parlando con un'altra persona e non con chi effettivamente mi deve ascoltare e chi è il destinatario del messaggio. Quindi fondamentale guardare sempre nell'obiettivo. C'è da dire che facendo video con il cellulare abbiamo un grande vantaggio, ovvero innanzitutto il cellulare è un oggetto con cui abbiamo a che fare tutto il giorno, tutti i giorni e quindi ci è molto familiare, no? E poi ha un obiettivo molto piccolo. Ho notato in vari anni di esperienza che più l'obiettivo è grande e più spaventa le persone e quindi un obiettivo molto piccolo sicuramente ci metterà leggermente più a nostro agio. Poi ovviamente provare, riprovare e riprovare, quindi fare un po' di esperienza, ci abituerà nel parlare con il nostro telefono. Chiaramente la prima cosa che dobbiamo fare per essere più efficaci possibili non è pensare sto parlando con il mio telefono, ma è pensare che sto parlando alle persone che vedranno questo video e questo ci renderà il nostro modo di parlare molto più sciolto e naturale rispetto appunto parlare con un oggetto inanimato. Come parlare a un obiettivo? Beh, il primo consiglio che do è quello di mantenere sempre un forte entusiasmo perché laddove non avessimo un entusiasmo abbastanza coinvolgente il tutto verrebbe smorzato dall'obiettivo e quindi sembrerebbe molto più lento, molto più noioso, quindi tenere sempre un bel sorriso e un entusiasmo piuttosto presente nel nostro discorso. Quindi cercare di mantenere vivo l'entusiasmo e l'energia, ma soprattutto evitare di correre troppo quando si sta parlando. Infatti una delle tendenze più comuni è quella di cercare di velocizzare la sequenza di parole che stiamo dicendo per arrivare alla fine in maniera più veloce e quindi toglierci l'ansia di dover registrare un messaggio. Ecco, questo ovviamente è assolutamente sbagliato perché è più facile andare ad impappinarsi nel momento in cui stiamo velocizzando le parole che dobbiamo dire, quindi parlando in un modo troppo veloce, mentre rallentare la velocità dell'esposizione ci consentirà di pensare a tutte le parole che dobbiamo dire e quindi andremo a sbagliare molto meno. Oltretutto parlare più lentamente consentirà anche a chi ci ascolta di percepire meglio il nostro messaggio, ovvero di capire che cosa stiamo dicendo. Cosa vogliamo dire? In un video poi dobbiamo avercelo bene in mente, altrimenti rischieremo troppi giri di parole che ci porteranno a distrarre l'osservatore. Dobbiamo quindi andare più possibile dritti al punto e piuttosto avere uno schema o una scaletta di cose da dire, quindi un elenco. Sconsiglierei personalmente di imparare a memoria un discorso, a meno che non siamo particolarmente abili nel recitarlo, perché poi si tratta di recitarlo come se fosse una cosa che ci viene spontanea, no? Quindi eviterei di memorizzare delle frasi a memoria anche perché nel momento in cui utilizzassimo un sinonimo o una frase non ci venisse subito a portata di mano, ci brucierebbe tutto il resto del discorso, ci perderemmo e sarebbe alla fine. Il mio consiglio è cercare di tenere a mente che cosa stiamo dicendo e soprattutto legare le frasi una all'altra in maniera più spontanea e più semplice possibile. Ovviamente una cosa da evitare è di muoversi tanto mentre si parla, nonostante sia una cosa che ci viene molto spontanea e molto semplice e soprattutto allevia la tensione, perché nel momento in cui siamo tesi, perché dobbiamo fare una registrazione di noi che parliamo e dobbiamo cercare di essere più bravi possibile per finire in fretta, no? Quello che ci aiuterà sarà sicuramente muoverci, che ci aiuterà a scaricare la tensione ed è il motivo per cui io sto gesticolando così tanto in questo video, no? Perché non posso muovermi? Perché ho i piedi ben piantati a terra nel punto X in modo che tutte le riprese siano più o meno simili. Ecco, ovviamente appunto muoverci ci aiuta, però ricordiamoci che se ci muoviamo troppo rischiamo di rendere o la ripresa traballante se stiamo camminando col telefono in mano mentre ci filmiamo, oppure di andare a incontrare degli ostacoli o delle situazioni che magari non sono completamente piacevoli da riprendere. Quindi dobbiamo fare attenzione o stiamo facendo una ripresa in movimento in cui ci muoviamo per avere una semplicità nel dialogare con il nostro smartphone oppure se siamo fermi, stiamo fermi. Ricordati che non sei in diretta e quindi potrai registrare tutte le volte che vorrai e fare tutti i tagli di cui avrai bisogno, ma se ti muovi troppo all'interno dell'inquadratura sarà più difficile creare un video omogeneo e soprattutto si vedrà molto di più il taglio. Una volta che sappiamo bene che cosa dire, dobbiamo anche tenere in considerazione che cosa non dire, quindi che cosa evitare di dire. Allora, la parte più difficile per me è sicuramente quella di utilizzare dei sinonimi all'interno delle mie frasi nel momento in cui sto parlando alla videocamera. Però una cosa che sicuramente bisognerà evitare di fare è di utilizzare delle non parole, quindi tutti quegli eh ma eccetera che possono andare a dar fastidio nel nostro discorso bisogna cercare di evitarli, quindi piuttosto prendersi un attimo in più per pensare alla frase che dobbiamo dire ed evitare di pensarci e di riempire il silenzio con dei suoni che non sono adatti al nostro video e quindi evitare di riempire i nostri video di mmm che poi la gente dà fastidio, non li ascolta volentieri, eccetera eccetera. Quindi attenzione bene a quello che si sta per dire e cerchiamo di fare attenzione anche a quello che non dobbiamo dire. Ovviamente ci vorrà particolare attenzione e esercizio per riuscire ad evitare tutti gli eh tra una frase e l'altra, però facciamoci bene attenzione. Ricordiamoci che però in fase di montaggio tutti gli eh possiamo andare a tagliare molto facilmente, sono facilmente riconoscibili e soprattutto non producono un movimento della bocca, quindi semplicemente andando a silenziare il suono in quel momento sembrerà che la persona semplicemente si sia presa una pausa per riflettere. Altro accorgimento nel momento in cui stiamo riprendendo una persona che parla è fare attenzione a iniziare e finire la ripresa o meglio il parlato fissando la telecamera, cioè io sono in silenzio, fisso la telecamera, inizio a parlare, finisco di parlare e continuo a fissare la telecamera. Dopo qualche secondo posso distogliere lo sguardo, però in fase di montaggio sarà molto più semplice unire le varie riprese di una persona che è sempre fissa verso l'obiettivo piuttosto che le riprese di una persona che ogni tanto si distrae, guarda i fogli eccetera. Questa è una cosa che a me riesce particolarmente difficile per esempio, ma mi sto esercitando per cercare di tenere il mio sguardo sempre fisso sull'obiettivo. Se deciderai di utilizzare l'obiettivo frontale per fare un video a te stesso ti consiglio di memorizzare dove si trova appunto l'obiettivo e guardare sempre lì, perché la tendenza solitamente è quella di guardare noi stessi dal momento in cui ci possiamo vedere, però chiaramente andando poi a rivedere la clip ci accorgeremo che stiamo guardando dal lato sbagliato e quindi memorizza bene dove si trova l'obiettivo frontale e guarda sempre lì. Ok, dopo aver parlato del linguaggio della persona che parla all'interno del video vorrei spendere due parole sul linguaggio compositivo del nostro video e quindi dal momento che andremo poi a montare clip diverse vorrei parlare dell'utilizzo del timelapse e dello slow motion all'interno dei nostri video. Sono due tecniche affascinanti e interessanti e sono ottime da utilizzare all'interno dei nostri montaggi, ma dobbiamo pensare al timelapse e allo slow motion come delle funzioni importanti per il nostro racconto e quindi dargli il giusto peso e spessore all'interno del nostro video. Il timelapse nello specifico è perfetto per introdurre un passaggio di tempo tra una situazione e un'altra o un movimento fra un posto e l'altro. Quindi usiamolo con parsimonia, non esageriamo con i timelapse ma sfruttiamoli proprio per sottolineare questi cambiamenti di situazione. Lo slow motion invece è un linguaggio ottimo per andare a evidenziare qualcosa di specifico. Immaginiamolo come se fosse il grassetto all'interno di una pagina stampata. Se noi avessimo tutta la pagina in grassetto sarebbe difficile capire su cosa focalizzarsi. Invece se solo qualche parola è scritta in grassetto sarà facile vederle subito a colpo d'occhio e concentrarsi su quelle parole specifiche. Anche lo slow motion quindi andrà ad evidenziare alcune situazioni e alcune scene particolari in cui vogliamo che il nostro osservatore focalizzi l'attenzione per qualche secondo o magari per qualche secondo in più rispetto a quella che sarebbe stata la scena alla velocità normale. Per agevolare la fase di montaggio uno dei linguaggi fondamentali è che definirà lo stile narrativo del nostro video e naturalmente rappresentato dalla colonna sonora. La colonna sonora è la musica che andremo a scegliere come sottofondo musicale per i nostri video infatti definirà il mood quindi l'atmosfera che si crea all'interno delle nostre riprese. Una colonna sonora molto triste molto lenta naturalmente sarà abbinabile a delle immagini in slow motion o delle immagini tristi in bianco e nero mentre una colonna sonora bella energica potrà essere abbinata a delle immagini molto veloci magari sportive e a un montaggio molto frenetico quindi la scelta della musica giusta andrà a influenzare proprio il montaggio delle nostre clip quindi bisogna fare bene attenzione alla tipologia di musica che vogliamo andare ad utilizzare per poi effettuare il montaggio quindi il mio consiglio personale è di scegliere la musica prima di iniziare a montare le varie riprese. Montare le riprese a tempo di musica infatti sarà molto più semplice e sarà proprio questo a dare il ritmo vero e proprio al nostro video. Bene per quanto riguarda il discorso sulla comunicazione e sul linguaggio dei video mi fermerei qua e ti darei appuntamento alla prossima lezione in cui affronteremo finalmente il montaggio vero e proprio